Ieri è stata una giornata infernale che da anni non si verificava una cosa del genere, ma per l'estensione, perché il fuoco è stato messo sia all'inizio della caletta di Sinescola per finire nella strada finale della 125 a confine con Posata. Una domenica da incubo che ha trasformato la Sardegna in una succursale dell'inferno, devastando ettari di terreno, abitazioni, strutture ricettive e terrorizzando i cittadini. 42 roghi scoppiati in totale. Una delle zone più colpite dalla furia insensata dei Pierromani è quella tra Posata e Siniscola, dove il maestrale ha alimentato le fiamme con velocità sorprendente, ma la macchina organizzativa, allertata da sabato, era pronta all'azione. Sono stati messi in campo tutto il personale disponibile dei vigili del fuoco. La direzione regionale si è attivata per far intervenire i comandi di Sassari e Oristano a supporto nostro. A forestale ha attivato tutte le risorse in campo, quindi nel giro di mezz'ora o tre quarti d'ora, che ci siamo collaborati con la prefettura di Nuoro, che ha fatto da coordinamento, nel giro di mezz'ora eravamo oltre 120 persone in campo. Due feriti, un uomo, Peppino Luzzo, coinvolto nell'esplosione di una bombola di gas, e una donna rimasta ostionata dal fuoco giunto nella sua abitazione. Un bilancio che, se l'intervento non fosse stato tempestivo, sarebbe stato ben più pesante. Una cosa molto importante è stata anche i mezzi aerei, che in primo momento erano quattro, poi sono stati richiesti con forza da me, dal prefetto di Nuoro, Dionisi, che si è attivato in prima persona con la sala operativa regionale e nazionale, e con insistenza sono arrivati altri due canadere. I circa mille evacuati nella notte sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. Già dalle 6 di stamattina due canader sono intervenuti per la bonifica della zona di Torpè e prosegue l'ispezione delle squadre dei vigili del fuoco e dei forestali lungo tutte le zone interessate dall'incendio per fare bonifica e spegnere eventuali focolai. Ma anche oggi, con il maestrale che ancora soffia un bollettino di allerta rossa, l'attenzione resta ai massimi livelli. Non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di incendi dolosi? Sicuramente, sono dolosi. Chi l'ha fatto, l'ha fatto in un momento ottimale, perché di mattina c'era il vento, però le temperature erano fredde. Il fuoco è stato appiccato alle 2, quando si è surriscaldato tutto quanto, il vento è iniziato ad aumentare e quindi l'hanno messo in 3-4 punti.